Da giovedì a Pescara cambia la viabilità su via Ferrari e via Pavone in zona stazione ferroviaria con due differenti sensi unici di marcia. Direzione sud-nord in via Pavone e nord-sud su via Ferrari. Obiettivo snellire il traffico che congestiona quella zona di città soprattutto nelle ore di punta. Come spiega l'assessore alla mobilità del comune di Pescara Adelchi Sulpizio. Sono delle scelte tecniche che già da tempo gli stessi uffici stanno studiando. Noi siamo convinti che porteranno un miglioramento del traffico e soprattutto nelle ore del primo mattino c'era un imbuto che si creava a via Enzo Ferrari. Oggi noi siamo convinti che con questa scelta tecnica andremo sensibilmente quindi a migliorare. Quindi oggi vogliamo anche annunciare una piccola rivoluzione di avviabilità su una zona centrale importantissima di Pescara perché verranno istituiti due sensi unici che consentiranno sia le macchine che percorrono da una parte via Pavone e Passana che verranno percorso dal lato praticamente sud e nord invece con un senso unico e via Enzo Ferrari nella parte meglio indicata della planimetria ci sarà anche lì un senso unico in questo contesto che andrà da nord verso sud. Questi lavori inizieranno giovedì e quindi da giovedì prossimo cambierà questa viabilità. Quel giorno lo giugnante ci hanno anche polizia municipale, ci saranno molti ausiliari che spiegheranno anche il luogo ma soprattutto si va verso una viabilità la più semplice che poi le cose più semplici sono anche quelle che riescono meglio. La sperimentazione per questa nuova viabilità durerà tre mesi, periodo durante il quale si mapperanno i risultati per apportare eventuali migliorie al nuovo piano del traffico comunale come spiegato in conferenza stampa dal dirigente Giuliano Rossi. Il nodo nevralgico è questo qui, l'intersezione tra via Enzo Ferrari e via Rigopiano. Qui si crea sempre un imbuto dovuto alla confluenza di più sensi di marcia. Adesso abbiamo ipotizzato di interrompere questo flusso delle macchine che arrivano da via De Gasperi e quindi non ci sarà più questo conflitto di viabilità. Quindi le macchine saranno costrette ad andare più avanti e girare al primo sottopasso utile della stazione ferroviaria. Qui non ci sarà più il senso di marcia delle macchine che arrivano da via Enzo Ferrari. Quindi chi esce dal sottopassaggio troverà via libera per poter poi proseguire e andare verso sud della città di Pescara. Altra novità del nuovo piano viario riguarda i nuovi parcheggi della zona. Come aggiunge l'assessore Sulpizio? Soluzioni che ci comporteranno nell'immediato da avere su tutta la zona praticamente già oltre 400 posti che a fine anno anche rimodulando quelli all'interno dell'area di risulta. arriveremo circa a 600 posti. Quindi 600 posti per i lavori sono stati momentaneamente tolti, 600 verranno anche immediatamente da qua a fine anno praticamente ridati. Fra Vienzo Ferrari e via Paoni ci saranno già oltre 200 posti che consentiranno anche in zona avere alle stesse tariffe dell'area di risulta un numero significativo di nuovi posti.